Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense. Tra le vere notizie vi aggiorneremo come sempre su quello che riguarda il covid in Emilia Romagna. C'è una novità da 100, un aggiornamento purtroppo non piacevole perché da lunedì chiudono le scuole, rimarranno chiuse per 14 giorni, vi spiegheremo il perché. In parallelo però hanno preso via le vaccinazioni AstraZeneca al personale scolastico, anche qui vi mostreremo quello che è successo già dalle prime ore di questa mattina. Parleremo del teatro comunale Abbado che presenta le prossime iniziative e a proposito di iniziative anche Codigoro presenta appunto nuovi appuntamenti in vista della giornata della donna. Ci occuperemo anche di calcio, oggi purtroppo la spalla ha perso 4 a 1 in casa contro la regina, in questo caso ci racconterà tutto Alessandro Sovrani. Cominciamo subito però da quanto è successo ieri a Bondeno, un ritrovo toccante nel tardo pomeriggio alle 18 quando i sindacati insieme all'Unione Donne in Italia, al centro Donna Giustizia, hanno organizzato un momento di ricordo per Rossella Placati, una manifestazione ricordiamo a cui hanno partecipato in diversi, tra cui il sindaco di Ferrara, nonché ex sindaco di Bondeno Alan Fabri, tra gli altri erano presenti anche la senatrice Paola Boldrini, il primo cittadino di Bondeno Simone Saletti e soprattutto tanti comuni cittadini che hanno voluto esprimere la propria vicinanza. Abbiamo raccolto alcune testimonianze e ve le mostriamo in questo servizio. Non avevo dubbi, Bondeno ha sempre dimostrato una grande solidità, una grande vicinanza, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà. Oggi siamo qui per dare una dimostrazione ulteriore che la popolazione non dimentica e non ci sta ad accettare certi comportamenti che non hanno assolutamente nessuna giustificazione. Tanto è la mia comunità e quindi ovviamente ci tengo, ma al netto di questo credo che sia un momento in cui essere qui è importante, in silenzio, rispettando il dolore ovviamente della famiglia, essendo vicino a tutto quello che è capitato e ci tenevo e quindi a maggior ragione siamo qua tutti per chiedere giustizia, per chiedere verità e credo che sia importante essere qui. È un evento drammatico, la cosa però che mi viene da dire è che ancora di più ci fa dire che non dobbiamo abbassare la guardia. Noi abbiamo aperto in collaborazione con il comune di Bondeno, come lo abbiamo fatto a Copparo, ad Argenta, a Cento, a Comacchio, a Codigoro, degli sportelli di primo ascolto, proprio perché le donne in difficoltà possono avere, magari hanno difficoltà anche a venire a Ferrara, possono avere un punto dove intanto essere avvicinate. Era giusto portare anche la nostra voce di quello che si sta facendo a livello nazionale. Lo sappiamo che abbiamo fatto molte cose ma ancora purtroppo il bollettino di guerra ci dice che dobbiamo lavorare ancora di più, soprattutto nella prevenzione e soprattutto anche sui sistemi giudiziari che devono essere più impellenti e più immediati. C'è qualcosa che non sta funzionando. Queste dunque alcune delle testimonianze di ieri torneremo ad occuparcene anche nelle prossime edizioni del TV giornale. Ma adesso invece parliamo di Covid perché sono 125 nuovi casi di positività registrati nel ferrarese nelle ultime 24 ore. Un numero stabile rispetto a ieri ma con 11 nuovi ricoveri in ospedale di cui due in terapia intensiva. Questi numeri appunto del bollettino adierno delle due aziende sanitarie dove però non si registrano nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore 425 persone sono entrate in quarantena ed altre tante ne sono uscite. Ci sono 74 nuovi guariti e 8 pazienti dimessi dall'ospedale Sant'Anna di Cona. Ma intanto per un bilancio regionale vediamo dal servizio come sono andate le ultime 24 ore. I contagi non si fermano, neppure i decessi, anche i ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive aumentano. Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel di questa pandemia. Altri 2.500 casi di positività in più rispetto a ieri su oltre 32.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il 7,9%. E sono sempre Bologna e Modena le città in testa alle classifiche dei contagi e dei decessi. A Bologna 541 nuovi positivi e 10 decessi su un totale di 32. E Modena 497 contagiati in più e 6 decessi. I reparti Covid sono sempre più in affanno. 87 ricoverati in più sono 2.178 in totale, mentre le terapie intensive hanno 214 letti occupati, 3 in più di ieri. La campagna vaccinale va avanti decisa con oltre 135.000 persone che hanno ricevuto la seconda dose e hanno così completato il ciclo. Da lunedì 1 marzo anche gli ultraottantenni potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Le somministrazioni partiranno invece il giorno successivo, martedì 2 marzo. Diverse le modalità di prenotazione tramite il CUP o le farmacie che effettuano prenotazioni CUP online attraverso il fascicolo sanitario elettronico, l'app ER Salute, il CUP web oppure telefonando ai numeri della ASL di appartenenza per la prenotazione telefonica. Non è necessaria la prescrizione del medico ma solo i dati anagrafici o il codice fiscale. A lato della prenotazione al cittadino viene immediatamente comunicato il luogo e la data della vaccinazione. Nella nostra regione sono 84.000 gli anziani già vaccinati, tra degenti delle RSA assistiti a domicilio e ovvero 85, un numero che colloca l'Emilia Romagna in testa a livello nazionale con il 25% di coperture già effettuate. E approfondiremo il caso vaccinazioni tra poco ma intanto c'è una notizia da 100 perché il sindaco Fabrizio Toselli ha firmato l'ordinanza per sospendere dal 1 al 14 marzo la didattica in presenza delle scuole di primo e secondo grado e per tutte le scuole superiori con sospensione anche delle attività didattiche extrascolastiche quali dopo scuola e corsi di lingua. Il provvedimento straordinario arriva dopo aver consultato anche l'autorità sanitaria locale e prevede restrizioni anche per lo sport e per le attività in parrocchia. L'andamento della pandemia a 100 non presenta ancora livelli di gravità sotto il profilo clinico dice la relazione del direttore generale Asla, Monica Calamai, che parla però di una situazione che induce una certa preoccupazione per l'aumentata diffusione del virus nel territorio e che ha riguardato prevalentemente le persone giovani, specialmente la classe di età che va dagli 11 ai 19 anni. Aggiungendo che tali valutazioni epidemiologiche si completano con il fatto che 100 è definita spesso città di confine in quanto dista soltanto 25 chilometri dalla città metropolitana di Bologna che come sappiamo è zona arancione rinforzata. Intanto come dicevo poco fa parliamo ancora di vaccinazioni, prime vaccinazioni questa mattina a Ferrara al personale scolastico con AstraZeneca effettuate dai medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna come la medicina di gruppo estense di Via del Naviglio a Ferrara. Vediamo. Non si sente niente, mi aspettavo avendo fatto tanti vaccini l'anno scorso per andare in Africa insomma mi avevano fatto più male, questo non si sente assolutamente nulla. Maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori assistiti dal servizio sanitario regionale nella fascia di età dai 18 ai 65 anni e che lavorano nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private parificate, nei servizi educativi da 0 a 3 anni e negli enti di formazione professionale. Sono i diretti interessati alla vaccinazione anti-covid che ha visto una prima seduta sabato 27 febbraio nella medicina di gruppo estense ad effettuare il vaccino AstraZeneca i medici di medicina generale. Partiamo simbolicamente con 10 persone, dopodiché noi procederemo con il rinfo di 20 persone al giorno perché la nostra medicina di gruppo ha all'incirca 400 persone da vaccinare sulle 5.000 che sono previste in tutta la provincia. Sì, lo aspettavo da tempo quindi è stato emozionante. Io lavoro alla scuola dell'infanzia a Barbieri di Ferrara e sì, è da tanto che aspettiamo questo vaccino quindi spero anche per le mie colleghe che si possa far presto. Qui ci troviamo nell'ambulatorio della medicina di gruppo estense con otto medici che sono insieme per la medicina di gruppo e che hanno avviato oggi le vaccinazioni per gli insegnanti. Chiaramente è mattina, però nell'organizzazione del lavoro hanno programmato di farla nella settimana nel pomeriggio proprio per dar modo agli insegnanti di poter fare il loro lavoro e poi potersi recare alla vaccinazione. Quindi è anche un'organizzazione che va incontro alle esigenze degli insegnanti. La nostra regione ha fatto un accordo con la medicina generale che poi si sta traducendo in un accordo chiaramente locale. Come si fa di solito in tutte le campagne vaccinali, soprattutto quella anti-influenzale ci sarà la chiama, avuto l'elenco dall'OSL del personale diciamo scolastico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale noi avvertiamo la popolazione, quindi chiamata attiva gli abbiamo fornito la documentazione sul consenso informato che loro già vengono compilato e poi dopo ovviamente anche noi per le parti che loro non sono riusciti diciamo così a compilare, diamo una mano dopodiché si procede attraverso il medico in presenza e all'infermiere alla vaccinazione vera e alla prima dose. Finora i vaccini sono tutti in due dosi, dopodiché varia il periodo la seconda dose viene fatta dalle 4 alle 12 settimane mediamente qui da noi si dovrebbe stare intorno alla nonna settimana. Concluse le vaccinazioni del personale scolastico si comincerà compatibilmente con le forniture di AstraZeneca con le vaccinazioni del personale universitario. Intanto è partita dal nido Ugo Costa questa mattina la sanificazione delle aule con lo speciale trattamento a base di iperossido di idrogeno vaporizzato sistema capace di abbattere da ambienti e superfici soprattutto batteri, virus e spore. Le prime scuole coinvolte sono quelle dei coordinamenti 1 e 2 ovvero oltre alla costa, girandole Neruda e le scuole di infanzia Aquilone e Satellite. Nelle prossime settimane saranno 28 gli istituti che saranno sottoposti al trattamento. Lavoriamo per la massima sicurezza negli ambienti che accolgono i bambini ha detto l'assessore Dorota Kusiak. Il sistema di sanificazione con il perossido di idrogeno è il medesimo utilizzato dal settore sanitario nel settore alberghiero e immobiliare. È sicuro, non inquinante e non tossico. Dopo la sanificazione i locali diventano agibili dopo circa 20 minuti dal trattamento. Intanto mentre in Italia si scontrano le fazioni pro e contro la chiusura delle scuole si fa sempre più forte nel paese la necessità di prestare attenzione alle generazioni più giovani in questi mesi colpevolizzate più che comprese rispetto al disagio a cui l'epidemia li ha esposti. Giovani delle scuole e dell'università ma anche giovani adulti più sensibili alle conseguenze economiche e sociali del Covid-19. Recenti ricerche ci dimostrano che si tratta il più delle volte di luoghi comuni. Sentiamo dal servizio di Daglia Bighinati. L'attacco alla responsabilità dei giovani nei confronti del contagio da Covid-19 è venuto da più parti in questi mesi di pandemia. Ai primi di agosto il direttore regionale dell'OMS per l'Europa Hans Kluge in un'intervista alla BBC ha definito i giovani responsabili dei nuovi piccoli e grandi focolai di coronavirus che dopo una generale riduzione dei contagi si andavano accendendo in tutta Europa complici le movide, i viaggi, gli assemblamenti nei luoghi di villeggiatura. In ottobre in Italia l'intervento di un artista guru come Adriano Celentano su Facebook ha messo in guardia i giovani dalla superficialità di chi negava il pericolo invitandoli a mettere le mascherine e a rispettare il distanziamento. Dopo l'estate, mentre le scuole dopo una faticosa ripertura tornavano a chiudersi soprattutto si è detto per colpa dei trasporti che favorivano l'assembleamento degli studenti ad essere messi sotto accusa sono stati i pranzi e le cene natalizie. Ma davvero vogliamo condannarci a questo modo di procedere? Possibile che dobbiamo continuare a litigare fra aperturisti o filo lockdown in attesa della sospiratissima libertà promessa dai vaccini messi appunto in anticipo dai ricercatori ma che purtroppo tardano ad arrivare? Nessuno vi aveva pensato che se non si fosse provveduto in tempo a fare accordi sulla loro produzione e distribuzione nel mondo e soprattutto se non si fosse preparati adottare ogni paese di una sufficiente dote di dosi è proprio qui che saremmo arrivati a questo punto sta alla politica e alle imprese farmaceutiche organizzarsi per correre ripari driblando se possibile il nuovo rischio delle varianti del virus ma intanto noi dovremmo evitare di metterci gli uni contro gli altri un'Italia divisa tra anziani che accettano responsabilmente i sacrifici imposti dalle misure di contrasto alla pandemia i giovani che antepongono alla sicurezza loro dei genitori dei nonni comunque dei più anziani il divertimento il lavoro le relazioni sociali è un luogo comune che non giova nessuno i risultati di un sondaggio condotto in aprile 2020 su più di 6.000 individui intervistati in 6 paesi circa 1.000 per ogni paese e pubblicato a maggio sulla rivista Covid Economics dice che i giovani più degli anziani hanno manifestato effetti psicologici negativi durante il lockdown come mancanza di sonno solitudine ansia stress conflitti con amici e familiari noia un risultato confermato dallo studio di due pediatri Rachel Cohen ed Emily Bosch pubblicato sempre a maggio 2020 sulla rivista Pediatrics che avvise in molti giovani un grado elevato di vulnerabilità rispetto al cambiamento di vita imposto dalla pandemia e poi ci sono le conseguenze economiche di Covid-19 che secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse luglio 2020 sono state più pesanti per i giovani per ciò che concerne l'occupazione molti di loro sono infatti impegnati in attività di spettacolo cultura accoglienza divertimento settore fra i più colpiti dalla crisi come d'altronde confermato per l'Italia dall'Istat che individua proprio nei giovani e nelle donne i lavoratori più penalizzati e quindi quelli più esposti ad una maggiore riduzione dei propri redditi e consumi parliamo di due appuntamenti importanti adesso che riguarderanno il teatro comunale a Bado nelle prossime settimane due spettacoli in streaming il primo si terrà l'8 marzo con l'incontro femminismo diritti e spiritualità dalle sacre scritture alla contemporaneità una riflessione più voci sulla questione femminile e si continuerà il 3 aprile con la via Crucis su testo di Mario Luzzi idea del presidente Michele Placido in sinergia con il direttore Moni Ovadia le vediamo in questa immagine che intendono realizzare la performance in più luoghi all'interno degli spazi del teatro che da mesi sono chiuse al pubblico coinvolgendo le maestranze dell'Abbado anche nella recitazione un evento quest'ultimo che si annuncia di grande suggestione oltre che originale anche per la presenza stessa appunto di Placido e Ovadia vi ricordo che ulteriori dettagli li trovate sul sito telestense.it intanto parliamo anche della festa della donna quindi si va verso l'8 marzo a Codigoro diverse le iniziative messe in campo organizzate dall'Udi locale e dall'amministrazione comunale vediamo il colore giallo perché è il colore della mimosa e quindi la mimosa è il fiore che ricorda tutte le donne e con questi palloncini vogliamo fare un'iniziativa molto simbolica insieme a Udi di Codigoro Avis e Coppa Alleanza che coinvolga tutti i cittadini di Codigoro nei prossimi giorni infatti distribuiremo ad ogni nucleo familiare un sacchettino all'interno c'è una brossure e un palloncino giallo dove invitiamo tutti i cittadini a gonfiare questo palloncino e ad appenderlo o fuori dal cancello o dalla finestra o dalla porta come atto simbolico nei confronti di tutte le donne non solo di Codigoro ma di tutto il mondo perché ancora una volta sono davvero sempre troppe le donne che vengono uccise sono già 13 già dall'inizio dell'anno L'Udi di Codigoro quest'anno assieme all'amministrazione comunale ha voluto presentare la donna il mondo della donna a 360 gradi quindi le iniziative che si terranno lungo tutto l'arco della settimana riguarderanno donne maternità donne lavoro donne che si sono distinte nella storia donne salute e soprattutto un appuntamento importantissimo con la scuola con i ragazzi che sono il nostro futuro come amministrazione comunale come Udi di Codigoro sosteniamo questa campagna di raccolta firme per abbassare la percentuale dell'IVA sugli assorbenti e passare dal 22% al 4% questo perché io sono profondamente convinta il nostro Stato considera gli assorbenti un bene di lusso invece di essere un bene di prima necessità in quanto gli assorbenti invece dovrebbero essere dati gratuitamente alle donne e adesso invece parliamo di calcio la Spal crolla al Paolo Mazza contro la Regina Biancazzurri rimasti peraltro in 10 già dopo 8 minuti in seguito all'espulsione di Mora che hanno perso 4 a 1 dalla squadra calabrese sentiamo da Alessandro Sovrani la chiave di volta la chiave di volta nei primi 8 minuti al quarto Mora è costretto dopo un errore di Tomovic che aveva liberato per il contropiede Fororuns ad atterrare all'altezza della coppia tre quarti campo il giocatore della Regina Giallo Sacrosanto passano 4 minuti Mora cade in area probabilmente non c'è contatto Alessandro Prontera fischietto di Bologna a due passi ed estrae per la seconda volta il cartellino dinanzi al volto del centrocampista di una spalla che era già in difficoltà psicologica alla vigilia di questo match che a quel punto si sente crollare il mondo ad osso una spalla che Marino ha schierato con i 4 difensori lasciando in panchina come era prevedibile Vicari l'aveva già detto in sede di presentazione del match con la Regina in Serendo Ocoglio a completare il reparto con Tomovic su gli esterni a destra Dickman e sulla corsia opposta Sala la spalla nemmeno ha avuto il tempo di riordinare le idee spalla che sul fronte offensivo presentava la coppia Paloschi e Asensio che non ha ricevuto palloni per tutto il periodo in cui è rimasta in campo con Valotti sul tre quarti al diciassettesimo la regina passava in vantaggio cross di Gliotti che ha spinto su una fronte spalla frastornata al ventesimo il raddoppio colpo di testa di Eflorunso dopo un'traversione di Gliotti dalla sinistra per la corrente Montanto girata a distanza ravvicinata nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ferrarese qualche provava a reagire in apertura di chiesa quando andriva a Sernicola per uno spento sala ma alla quinta arrivava il terzo gol a questo punto la gara era chiusa e pensate che se non ci fosse stato questo episodio forse la small avrebbe anche potuto sperare di riaprirla visto che al nono minuto in una punizione calciata dalla distanza di Spolito cambiava traiettoria del pallone dopo la rispinta la deviazione della barriera la deviazione era di Florunso e accorciava la distanza ma ormai non c'era più gara in inferiorità numerica con una regina che poteva gestire a coppio piacimento il match inutili erano anche le successive sostituzioni con Marino che operava questi cambi anche pensando alla gara di martedì a Salernio al ventitresimo vi era una conclusione di Menest da poco entrato ancora rispinta di Beriscia e da centroare arrivava Florunso per il gol del definitivo 4 a 1 e vi ricordo che l'intervento integrale lo trovate su telesensor.it e sui nostri canali social dove però trovate queste e altre notizie per l'edizione invece odierna è tutto grazie dunque per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti